Palazzo Vidman a Bolzano. Ad inaugurare il momento d'incontro e confronto dedicato al tema mobilità e cooperazione, soluzioni alternative per la mobilità di domani, è stato il vice presidente della provincia Cristian Tomasini. Sue le competenze in materia di sostegno al settore cooperativistico, settore che ormai da anni è protagonista anche dell'innovazione nel mondo della mobilità. La cooperazione è una risorsa fondamentale, noi siamo abituati ad associare la cooperazione soprattutto all'ambito sociale, all'ambito delle edilizie, delle cooperative edilizie, ma la cooperazione è una risorsa straordinaria per la coesione sociale. Alla base della cooperazione ci stanno i valori di solidarietà, di incontro a fare le persone e di impresa, quindi si può generare lavoro attraverso il lavoro cooperativo. Con questi incontri noi vogliamo dimostrare che si può cooperare e fare cooperazione in tutti gli ambiti, l'ambito della cultura per esempio è fondamentale, così come l'ambito della mobilità. Si può pensare a una mobilità efficiente, una mobilità che guardi il futuro, una mobilità che sia energeticamente anche all'avanguardia, attraverso anche il modello cooperativo. Secondo di tre incontri organizzati da Cooper Dolomiti con l'obiettivo di approfondire tematiche di fondamentale importanza per l'intera collettività. Tra i convegni che ha organizzato l'assessore Tomasini questo per noi è molto importante perché ha un valore strategico di prospettiva. La cooperazione deve fare il suo ruolo, il suo ruolo è quello di animare la comunità attraverso un'intrapresa diffusa e solidale che chiaramente possa mettere in moto tutta una serie di leve che partono dalla consapevolezza del fatto che l'ambiente è di tutti e dei nostri figli e quindi occorrono misure concrete per salvaguardare l'ambiente ma anche per dare una qualità della vita elevata. In questo senso la green economy è uno dei settori di maggior interesse sui quali la cooperazione è presente, abbiamo il car sharing, un consorzio di cooperative, abbiamo la cooperativa Nevi che si occupa appunto di shuttle e quindi di coordinamento, di messa a sistema intermodale tutto ciò che è il trasporto di prossimità sono dei contributi che vogliamo dare rispetto all'impegno dell'ente pubblico, SAD, SASE eccetera e rispetto chiaramente a quello che l'ente pubblico dovrà fare per infrastrutturare al meglio un mondo che deve cambiare all'insegna dell'ambiente, quindi in questo senso ci vogliamo essere. Il valore di una cooperazione capace di adattarsi ai tempi è stato sottolineato in occasione dell'incontro che ha visto una folta partecipazione di pubblico. Le cooperative che sono attive in questo settore sono nuove cooperative che propongono dei modelli alternativi, ma non tanto è solo per quello che fanno, ma anche per come lo fanno, perché la cooperativa è soprattutto in un periodo dove parliamo anche di sharing economy, proprio il modello di impresa che può portare avanti questo tipo di sviluppo economico, perché sono appunto soci, persone che si mettono insieme per realizzare un'idea senza una necessità di grandi capitali iniziali, dove vale insomma il voto capitario, quindi tutti, ognuno dei soci e delle soci ha la stessa voce, ha lo stesso potere decisionale ed è anche importante per una cooperativa inserirsi nel territorio e quindi lavorare con la comunità. Quindi è un po' questo lo spirito della cooperazione, è un po' lo spirito anche di tutti questi modelli di sviluppo appunto improntati a uno sviluppo sostenibile. I protagonisti dell'incontro a Palazzo Vidman sono stati coloro che quotidianamente promuovono il connubio tra mobilità innovativa e cooperazione. Cooperazione, cooperazione diciamo che car sharing in struttura alto allege nasce come un progetto all'interno della cooperazione, tant'è che soci fondatori sono delle cooperative e delle centrali cooperative. Poi il progetto nasce anche come cooperazione nel senso che io condivido una macchina, vuol dire che coopero tra chi mette a disposizione una macchina e chi la prende a noleggio. Quindi c'è una cooperazione da svariati punti di vista. Sostenibilità perché? Perché una macchina in car sharing, gli studi ci dicono, toglie circa 6-7 macchine dalla strada. Quindi abbiamo un risparmio di territorio dedicato di solito alle macchine, quindi già nel nostro territorio che è abbastanza piccolo contenuto come disponibilità di spazio, questo è un grandissimo vantaggio. Vantaggio economico perché comunque conviene usare le macchine in car sharing se uno viaggia 10-12 mila chilometri all'anno come massimo e sostenibile anche perché comunque le nostre macchine vengono regolarmente sostituite con macchine di nuova generazione e quindi con emissioni più favorevoli e soprattutto c'è anche un risparmio a livello societario, società globale. Vengono prodotte meno macchine, c'è meno consumo, si rottamano meno macchine e quindi è una catena che porta un sacco di vantaggi. Green mobility non è solo un concetto innovativo a respiro internazionale ma una realtà consolidata anche in Alto Adige. La mobilità sostenibile è più attuale che mai e perciò è molto importante per primo cercare di evitare il traffico, come secondo cercare di spostarlo verso forme sostenibili come il trasporto pubblico o la mobilità ciclistica o andare a piedi e come terzo il traffico residuo renderlo ecocompatibile, per esempio attraverso la mobilità elettrica e per quello la provincia per esempio ultimamente ha introdotto gli incentivi per la mobilità elettrica. Antonio Pasqualin ha dato vita a Nevi, la cooperativa specializzata nei servizi di transfer e shuttle per coloro che hanno deciso di allontanarsi dal concetto di proprietà dell'auto. La sinergia con gli altri servizi presenti sul territorio è il vero valore aggiunto. L'incontro di oggi è importante perché ci sarà una reale cooperazione tra strutture delle cooperative tipo il car sharing e la cooperativa Nevi. La cooperativa Nevi ha centinaia di autisti che guidano le navette e il car sharing ha diverse autovetture. Noi possiamo dare gli autisti a car sharing per poter dare la possibilità ad anziani e disabili che non hanno l'autista di poter usare il servizio car sharing. Questa è una cooperazione ad esempio. Le cooperative che operano nel settore dell'energia diventano sempre più importanti anche per l'economia locale. Noi offriamo servizi ai nostri soci, abbiamo un contratto con un fornitore di macchine elettriche e prendiamo condizioni veramente molto molto buone e queste le diamo ai nostri associati per promuovere un po' tutta la mobilità elettrica. Il prossimo incontro organizzato da Cooper Dolomiti in collaborazione con l'assessorato alla cooperazione è in calendario il 22 di febbraio sempre a Palazzo Wittmann dedicato al tema del co-housing, i nuovi modelli abitativi in cooperativa.